Hanno presidiato la sede della Corte d'Appello dell'Aquila i lavoratori dell'azienda IKK di Conolnella e i sindacalisti dell'Unione Sindacale di Base per sostenere la difesa di due lavoratori sindacalisti denunciati per diffamazione dall'azienda e per i quali oggi in aula era prevista l'udienza del processo. Diritti violati e democrazia sfregiata recita così lo slogan del volantino della compagine sindacale che descrive la situazione paradossale di un'azienda che da un lato mette in cassa integrazione dipendenti e dall'altra chiede ore di straordinario ai lavoratori. I due sindacalisti sono stati denunciati perché avevano sollecitato l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro. Il presidio davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila è per richiedere giustizia nei confronti di due sindacalisti dell'USB che nel 2009 avevano chiesto l'accertamento all'Ispettorato del Lavoro e di controllare se l'IKK utilizzasse correttamente la cassa integrazione. Perché diciamo questo? Perché mentre l'IKK richiedeva la cassa integrazione dall'altra parte faceva svolgere straordinari ai lavoratori e una modifica e potenziare l'utilizzo dei lavoratori nella produzione. Abbiamo semplicemente richiesto di far accertare dall'Ispettorato del Lavoro se questa cosa era corretta e l'azienda ha ritenuto opportuno denunciarci per diffamazione rispetto a questa richiesta di accertamento. Quindi siamo qui per chiedere la soluzione ai due sindacalisti che hanno prodotto questa richiesta di accertamento perché ci sembra illegittima, ingiusta e ingiustificata. Quindi giustizia chiediamo nei confronti di questi due lavoratori e che comunque si cercava anche da parte dell'azienda di limitare l'attività sindacale.